Ciao a tutti ragazzi, qua Fabio, sono tornato oggi su Assetto Corsa per la prima volta sono su computer, a parte il tutorial per conventare le mod su Formula 1 2015 oggi faremo dei giri sul circuito di Manicourt in Francia con la SF15T di Sebastian Vettel come potete leggere da tutta la skin di Sky Sport Formula 1 HD Vettoria è la regia internazionale però comunque non importa possiamo iniziare, vogliamo partire facciamo la prima ragazzi è tutto disattivato purtroppo non posso, non mi registra il menu di iniziare se no mi potevo far vedere già da lì solo che il programma non mi fa registrare il menu, non ho capito perché comunque riscaldiamo bene le gomme dai 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 riscaldiamole bene prima tornantino qua si prena un po', destra, sinistra qua si accelera un po' poi subito si prena una sinistra a U questa è la curva piuttosa secondo me è tutto tracciato qua si accelera fino in settima marcia si frena destra, sinistra anche qua un altro tornantino altro rettilineo con una piccola curva a sinistra adesso una curva a destra di 90 gradi una destra a sinistra che porta sul rettilineo e inizia il giro no 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 iniziamo già bene ragazzi vedai non era andata malissimo con la curva ragazzi questa questa cosa devo dirvi questa pista non c'è sul gioco però la potete aggiungere vi lascerò il link in descrizione sia della sia del tracciato che della mod per la SF15T troppo bello si è tracciato mi ricordo quando giocavo a Formula 1 2006 nella carriera si faceva con l'atto rosso mi pare feci una gara qua abbaiato vabbè tanto ho mai su giro controllo no raga a mono riesco più incredibile questo tracciato lo faccio bene l'unica becca è quella curva comunque ragazzi questo gioco è troppo bello un simulatore proprio cioè c'ho il mio TX il mio volante è 458 48 5 eh ho il mio volante 458 Italia che diciamo un force feedback con sto gioco pazzesco dai no raga c'è c'è la commessa curva proprio è bello che mentre non registravo la facevo benissimo vabbè ecco mo sbaglio pure questa vabbè ho schiacciato troppo velocemente l'acceleratore ovviamente non ho visto la curva vedendo ormai sto giro ok dai raga iniziamo il giro stiamo verso il centro oh oh c'è c'è cliccato il sound verso l'interno della curva raga mi sono confuso oh cazzo 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 porco giuda cazzo 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 ho fatto bene la prima curva e la vado a rovinare il giro sull'ultimo sottoro praticamente ebbè tanto ormai oh ragazzi Questa è una delle cure più belle No raga Ve la vado a rovinare Questa è una delle più difficili E' la più difficile Perché alla fine la prima è una cazzata Solo che non riuscivo a farla Adesso Vabbè raga Eh scherzo è troppo velocemente L'acceleratore Perché senza traction control Bisogna schiacciare lentamente l'acceleratore Quando Minusciuta di curva Se no la macchina Slitta Niente raga Cioè raga Sembra farla apposta Faccio Bene tipo la prima curva E sbaglio Quella lì Bastarda Poi quando faccio muore la prima Quella lì stronza La faccio bene Cioè Sembra farla apposta Eh Cioè guardate adesso Sicuro adesso verrà bene Questa qua Eh Così così Sembra meglio di prima Cioè buh Io non lo so Non lo so Provo a farla in pieno Questa Eh niente Ho alzato il piede raga Ok raga Ora sbaglio Sicuramente quella Ma ci gioco Tutto Tanto Ho sbagliato questa Però vabbè dai Non è proprio sbagliata Sbagliata Questa bisogna frenare un sacco In questa Io non freno tanto In quella Per quello Per quello sbaglio Io vado sparato Quasi Oh raga Finalmente Oh L'ho fatta anche Senza alzare il piede Ce l'ho anche fatta Ormai ho preso la mano Non mi scollate più da qua adesso Solo che dovrò editare il video Quindi Dovrò per forza Staccare Però adesso Ho frenato troppo Raga Cordolo di merda Oh raga Finisco sto giro Ne faccio un altro Poi Furniamo il video Prepariamoci al meglio Fare l'ultimo giro Raga mi concentrerò Perché voglio farlo velocemente Via Cioè raga Fail pauroso Proprio Raga L'ultimo giro Ne facciamo Dai In pieno Dobbiamo stare più all'interno Della curva Come ho fatto adesso Dai Ciao 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 Dai No vabbè raga C'è porco Giuda Comunque raga Finiamo qua il video Ragazzi il video finisce qui Vi ricordo che se vi è piaciuto il video Di lasciare un like, commentare, iscrivetevi al canale Da Fabricando è tutto Bella raga